Dexia verso lo smembramento, Belgio, Francia e Lussemburgo salvano così il gigante bancario assicurativo prima vittima della crisi del debito sovrano nella zona euro con 700 miliardi di euro di esposizione, nazionalizzato in ramo belga per 4 miliardi di euro. Abbiamo presentato la nostra offerta di riacquisto al 100% delle azioni di Dexia, Belgio ha dichiarato il ministro delle finanze belga e il consiglio di amministrazione di Dexia ha accettato. Un'operazione non esente da polemica anche perché Dexia è già stata salvata una prima volta nel 2008. I contribuenti non dovranno sborsare troppo perché il rischio è controllato e il costo dell'operazione è relativo. La parte francese dovrebbe a sua volta essere rilevata da Parigi e un consorzio incaricato del finanziamento ai comuni sarà costituito con la banca postale francese. Gli asset a rischio di Dexia confluiranno in una bad bank con garanzie statali per 90 miliardi di euro, di cui 60% dal Belgio.